Si attende il nulla osta per l'espianto degli organi, l'ultimo atto d'amore di Moni Andreani. La ricercatrice, 45enne universitaria, morta a causa di un malore, occorso gli in acqua venerdì mattina mentre nuotava, a pochi metri dalla riva, davanti al circolo velico Sassonia, dove era arrivata assieme a due sue amiche per una giornata di sole e svago. Ieri i medici hanno prospettato un quadro clinico che ha chiuso la porta ad ogni speranza di recupero e di lì la decisione coraggiosa dei familiari di dare il benestare per l'espianto una volta espletate tutte le procedure. Stamattina al circolo velico Sassonia una rosa rossa sul laser di Monia lo distingue tra le tante anonime imbarcazioni. Monia, ci dice Roberto Pagnottella, il presidente del circolo velico Sassonia, presente al momento della sciagura, era una nuotratrice esperta, partecipava tutti gli anni alla nutata longa ed era in acqua con la muta, gli occhialini e la cuffia, quindi niente congestione. Non si avventurava così, anzi, era una velista esperta e sapeva valutare il meteo e le condizioni del mare. È stata una vera disgrazia, ci aggiunge. Pagnottella, che ha seguito anche l'evolversi della situazione in ospedale, ci ha riferito che, a seguito di un attacque, sembrerebbe che la causa del suo malore potrebbe essere stata un'emoragia celebrale che gli ha fatto perdere i sensi quando era ancora in acqua. La sua amica Francesca, dopo che un ragazzino ha dato l'allarme, l'ha tirata a riva prendendola per un braccio, dopo essere entrata in acqua a mezzo busto, a pochi metri dalla riva. Dopodiché le grida di aiuto hanno fatto arrivare di gran carriera i bagnini dei vicini Bagni Maurizio. Ci siamo accorti che c'era una ragazza a riva con la muta che era incosciente. Allora, appena siamo arrivati, l'abbiamo subito soccorsa, abbiamo iniziato subito le manovre che ci hanno insegnato. Nel frattempo, chi era lì vicino, abbiamo detto subito chiamate 118, hanno chiamato il 118 e sono stati molto rapidi, sono subito arrivati a soccorrersi. Però i minuti sono sembrati eternità. Dopo quando sono arrivati i medici, abbiamo collaborato con loro nel provare a soccorrere questa ragazza. Una volta che il cuore di Monia è ripartito, poi la corsa disperata in ospedale, ma dopo 24 ore di osservazione, il comunicato della direzione medica ha gelato tutte le speranze e i cuori dei suoi amici e dei parenti. 45 anni ricercatrice di bioetica all'Università di Urbino e di filosofia politica all'Università per stranieri di Perugia, è molto amata in città per il suo impegno anche nel sociale e sul fronte dei diritti umani. I funerali di Monia si terranno giovedì 16 a Perugia, al cimitero monumentale Ponte Valle Ceppi, al circolo velico in Sassonia, di cui da innumerevole tempo era socia, di lei, oltre al ricordo indelebile della persona e della sportiva, rimane il suo laser e la rosa rossa. All'Università di Ponte Valle Ceppi